Per 4 giovedì di luglio, il 7, il 14, il 21, il 28, dalle 17 alle 23, Piazza Garibaldi si animerà di mercatini commerciali, musica e tante attrazioni per bambini. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Crema la manifestazione estiva Piazza Garibaldi in festa, organizzata dall'agenzia Cinzia Miraglio con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Crema e dei negozi di Piazza Garibaldi. Il giorno scelto è giovedì, in contemporanea con l'apertura serale dei negozi del centro, per offrire così maggiore partecipazione e coinvolgimento del commercio di vicinato. Gli obiettivi sono promuovere la socialità, offrire un modo gioioso di vivere la bellissima Piazza Garibaldi, promuovere le attività locali con diverse iniziative, mercatino di artigianato, autoproduzioni creative, riciclo, riuso, vintage e prodotti bio. Non mancheranno animazioni e laboratori per bambini, musicisti di strada e la presenza di associazioni on-lus locali per la promozione e raccolta di fondi. Ogni giovedì sera un'animazione diversa dedicata ai bambini e in collaborazione con le attività locali della piazza ci sarà una postazione con un cantante di strada per la colonna sonora della serata. Si parte giovedì 7 luglio alle ore 17.